Io credo che siamo sulla strada giusta perché l'accorpamento delle province è quanto l'Unione delle province italiane aveva proposto al governo garantendo non un risparmio solo di 80-100 milioni così come deriverebbe dalle norme del Salva Italia, ma un risparmio di almeno 5 miliardi l'anno. Credo che soprattutto sia da tenere in grande considerazione il fatto che Milano ancora una volta ha fatto da pripista la proposta che a luglio con il sindaco Pisapia abbiamo messo sul tavolo e che stiamo portando avanti l'amministrazione della provincia di Milano, l'amministrazione del comune di Milano con l'accordo di tutti i sindaci della nostra provincia è quanto il nostro territorio richiede, cioè un governo metropolitano dove vi siano le competenze proprie di ciò che deve andare sopra il livello municipale. E quali sono? Trasporto pubblico e infrastrutture, governo del territorio, politiche attive del lavoro quindi tutto ciò che riguarda la formazione professionale e l'incontro di domande offerte per il lavoro e poi tutti i temi dell'ambiente, acqua, aria, energia. Bene, su questo procediamo e credo che la risposta che può dare il governo ci auguriamo che sia quella giusta senza dimenticare la legittimazione che deriva dal voto a soffraggio universale.